Sono due tragedie che caratterizzano il primo giorno del ponte di Pasqua nella Marca. La prima ha avuto come scena i cieli dell'altopiano dei sette comuni, tra Lusiana e Cogollo Alcengio. Un deltaplano è precipitato nella boscaglia del monte di Calvene a 700 metri di quota. Per Carlo Caldon, 55 anni di ponzano, non c'è stato nulla da fare. Lombardo, ma nella Marca da tempo, coltivava anche per via del passato tra i paracurtisti della Folgore la passione per l'aria. Da alcune testimonianze l'uomo, probabilmente a causa di un ma loro in volo, ha perso il controllo del mezzo, che ha iniziato ad avvitarsi già ad alta quota. Inutile l'intervento di alcune persone presenti sul punto dell'impatto, che hanno tentato le manovre di rianimazione. Al personale sanitario giunto con l'ambulanza non è rimasto che constatarne il decesso. La seconda tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi a Conegliano. Erano passate da poco alle 16.30, quando un motociclista, di cui al momento non si conoscono le generalità, si è scontrato contro un'auto, proprio davanti all'entrata dell'eonologico Cerletti. Anche in questo caso, l'ipotesi più probabile è di un malore, che ha fatto perdere il controllo al centauro. L'impatto è stato violentissimo. I paramedici del suo M118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte del centauro.